L'Eneadi è scritta dal filosofo Plotino di Elicopoli nel 254, che è l'uno e quali sono i rapporti tra l'uno e il cosmo, questo è l'argomento dell'opera. Per molti anni l'insegnamento di Plotino fu soltanto ridiporale e cominciò a mettere per scritto il suo pensiero solo verso i 50 anni. I suoi trattati saranno poi ordinati da Porfirio di Tiro in sei gruppi di nove e pubblicati con il tipo di Enneadi. Plotino afferma che l'uno è il principio dal quale tutte le cose derivano. Dio all'infinito, Aperos, privo di forma, amorphos, senza figura, aneidos, ignoto, agnostos, di lui non si può dire nulla, ma lui si addice più il silenzio a quella parola. Dio va adorato, non chiacchierato. Di Dio sono i più esatti giudizi negativi che non quelli positivi. Questa posizione teologica si limita a dire ciò che Dio non è e viene definita teologia negativa o apofatica. Come le cose procedono dall'uno? Perché l'uno non è rimasto in se stesso. Plotino afferma che il cosmo sensibile e quello intellegibile hanno avuto origine dall'uno. Ma come avviene questa derivazione? Plotino ricorre a tre termini per spiegare il passaggio dall'uno al moltiplice. Emanazione o aporria, processazione o prodos, irradiazione o perilampis. Ricorre anche a diverse immagini per chiarire il concetto. Il moltiplice deriva dall'uno come il profumo emana dal fiore, come il fiume dalla sorgente, come la luce dal sole, come il calore dal fuoco, come il freddo dalla neve, come il traboccare di un liquido da un vaso ricolmo. Questa processione ha due caratteri. Necessaria, Dio non può emanare come il fuoco, non può non riscaldare. Se per il cristianismo la creazione è libera e gratuita, per il plutino l'emanazione è necessaria per una soprabbondanza di essere. E degradante, le cose sono sempre meno perfette. Man mano che si allontanano da Dio, come la luce diventa oscurità allontanandosi dal sole, e quindi l'emanazione avviene così. L'uno riflettendo su se stesso, contemplandosi, vede se stesso come in una immagine perfettissima, ma inferiore, perché immagine dell'uno. Questa è la prima emanazione, cioè la mente. La mente, contemplandosi, vede se stessa come in un'immagine perfettissima, ma inferiore, perché immagine della mente, questa nuova ipostasi è detta anima del mondo. L'anima, contemplandosi, vede se stessa moltiplicata nella infinita serie delle singole anime dei viventi, nella infinita serie delle singole forme delle cose, e quindi l'anima è detta ultima dea, in posizione intermedia, con due facce, perché da un lato genera il corporeo, e tuttavia l'anima resta incorporea. Poiché l'anima, detta una e molteplice, è indivisa e divisa. L'anima, con la mente l'uno, costituisce una triade che ricorda la trinità cristiana, ultima emanazione nella materia. All'emanazione discensiva, prodos, corrisponde il ritorno ascensivo, epistofre, a Dio. Il ritorno di tutte le cose avviene nell'uomo, perché l'uomo è microcosmo del cosmo, cioè copola mundi, incollocato tra l'uno e la materia. L'uomo avverte il richiamo della patria. E il tema della nostalgia si configura come la cifra metafisica che sigla tutto il platonismo. Plotino intende la vita come un esilio che trova nell'odicea omerica la sua rappresentazione. Le tappe del ritorno all'uno sono con l'esercizio delle virtù civili e con le virtù purificatorie, amore ed arte e con lo studio della filosofia. Ma solo con l'estasi, vera intuizione amorosa di Dio, l'uomo dimentica se stesso, si fonde e confonde in Dio.